Bancata campagna di informazione, scarsa organizzazione tra enti locali e Ausle nelle disinfestazioni. Il Movimento 5 Stelle va all'attacco della Regione per la gestione dei contagi da West Nile, il virus che in Emilia-Romagna ha già ucciso 16 persone, 3 le vittime a Modena, le prime due comunicate soltanto giorni dopo i decessi. La consigliera regionale pentastellata Giulia Gibertoni denuncia una grave sottovalutazione del problema e chiede di rivedere la governance sanitaria in Regione. Fa pensare che la governance territoriale di ambito sanitario vada rivista, che c'è qualcosa comunque che non va. Penso a questi casi, penso al fatto che si poteva agire per tempo, io chiedevo già da molte settimane un piano straordinario, penso alla prevenzione che si dice poi non si attua o molto spesso non si attua come si potrebbe e al fatto che anche qui se si fosse monitorato meglio i focolai, se si fosse partiti con una cabina di regia e col coordinamento delle ASL e soprattutto tramite le ASL quella degli enti locali che sono responsabili della disinfestazione, quindi avrebbero dovuto agire senza esitare, senza distrarsi, mentre alcuni amministratori locali sono distratti. La Gibertoni inoltre punta il dito contro l'accordo che nei giorni scorsi ha scongiurato lo sciopero dei medici di emergenza urgenza, solo di facciata, dice, le criticità restano tutte. Mi auguro che da qui a dicembre, per evitare che poi ci troviamo nel rischio di uno sciopero a fine anno dei nostri pronto soccorso, in particolare di quegli ospedali che non hanno un numero di medici sufficienti, che sicuramente incorrerebbero nel rischio di sciopero, sia bene arrivare ad un accordo vero sul lungo periodo, in modo che i medici dell'emergenza territoriale, i medici delle ambulanze, che fanno anche pronto soccorso, siano economicamente sostenuti, così come...